Tutto un problema di mentalità E' uno col quale Tu hai sempre parlato di Totti ovviamente Rivediamo il gol di ieri Te l'aspettavi Boateng? Eh Tony? Non lo so Insomma era colpa sua Era colpa sua E alla fine l'hanno Io? No No Ancora no Vuoi fare la proposta Forse hanno bisogno Visto che non segnano Dicono che cavallo Con un clima diverso Con una città diverso La squadra come gli pare piace Io trovo Ci vado poco allo stadio Di cui è stato un sovrano Pirlo all'Inter Con la maglia dell'Inter No ma lui Tre ore poi arriva Il bacio Dato di fronte Se non lo fanno? No Come fa oggi Anche in una notte Quando vuoi Questa è casa tua Grazie Grazie mille Vai piano Grazie di invito Grazie